Ciao a tutti da Altra Lutore, eccoci qui allo stadio Tre Fontane, mi trovo qui con Fabio Colantoni. Allora Fabio, tu sei il capitano di questa squadra Fedelluce. Sì, esatto, siamo un'associazione che è amica delle famiglie che hanno la realtà della disabilità all'interno. Quindi praticamente cercateci in Italia, dovunque state, perché Fedelluce è a livello mondiale. Quindi se volete, se ci cercate, ci trovate. Siamo un'associazione che appunto volta sempre ad aiutare in amicizia, non come operatori, non come qualcosa che è dato per scontato, che sia dato, ma che è dato col cuore. Quindi non per secondi fini o scopi di lucro, perché spesso succede. E' importante, noi sappiamo che ci mettete cuore e anima e ovviamente uno spettacolo incredibile che si dà a tutte le persone che hanno necessità. Questo è un messaggio importante, ecco. I riferimenti li troviamo su internet. Esatto, su www.fedelluce.it Io ti ringrazio Fabio, complimenti per tutti e il risultato finale ovviamente... Noi ci proviamo, perché la squadra della Nazionale Attori è bella, è bella tosta. Ecco, perciò noi salutiamo tutti i fan della Nazionale Attori. E tutti i fan di Fedelluce. Di Fedelluce.